La Facoltà e Policlinico sono stati pensati per assolvere una funzione sociale ed è una funzione necessaria. Michel Foucault, in un libro dal titolo Nascita della Clinica, nota che, cito, la malattia ha probabilità di trovare guarigione solo se gli altri intervengono con il loro sapere, con le loro risorse, con la loro pietà, poiché non c'è malato guarito se non nella società. Il Policlinico non è stato concepito per essere un luogo di pura ricerca scientifica, di sperimentazione. È un servizio alla collettività, in termini di cura e di formazione di futuri medici. Ed è stata una scelta precisa e forte quella di operare nel sistema sanitario nazionale e di farlo con generosità un impegno senza limitazione, il che vuole anche dire senza scegliere l'attività più o meno economicamente vantaggioso o quanto meno sostenibile. La dimensione di questo servizio è attestata da numeri sui quali non mi trattengono. Sono noti i volumi di ricoveri, di attività ambulatoriali, delle prestazioni del pronto soccorso. Soprattutto sono noti a coloro che abitano in questa città e sanno di avere in questo ospedale un approdo sicuro e un punto di riferimento. A questa consapevolezza, quindi, un numero in più o in meno non aggiunge nulla. Un tale approccio, però, di generoso impegno, di servizio pubblico, ci aveva portato alla soglia di un punto di non ritorno dieci anni fa e ha richiesto, come ho ricordato, uno sforzo straordinario e, va detto chiaramente, non ripetibile dell'Ateneo per consentire il Policlico di risollevarsi e continuare a svolgere la propria funzione sociale. Ancora oggi, il servizio pubblico è svolto con sacrificio.